partete al comando benaria reale presto avvicinata all'esterno e superata da spirit of darkness che gradatamente assume il comando davanti a benaria reale quindi segue fakir a largo guagira guanta quindi a zampe levate corfino mentre segue staccatissimo pat monami siamo ora all'imbocco della curva con spirit of darkness che si mantiene in vantaggio seguito ora da fakir che ha scavalcato benaria reale a largo si mantengono anche guagira guanta e corfino mentre per linee interne rimane a zampe levata e staccatissimo sempre pat monami gruppetto ben riunito poco prima dell'ingresso in retta di arrivo con leader all'ostecato spirit of darkness al suo inseguimento a largo fakir per linee interne rimane in quota benaria reale più a largo si profila guagira guanta in anticipo su a zampe levate che ora si profila a largo sta allungando spirit of darkness guagira guanta centropista si propone all'interno di guagira guanta benaria reale a largo a zampe levate più indietro corfino siamo a 250 dal palo con guagira guanta che è passata a centropista nei confronti di benaria reale lungo la corda spirit of darkness e a largo scatta a zampe levate nel tratto finale guagira guanta attaccata a largo da zampe levate che di slancio passa di precisione mentre per il secondo posto guagira guanta è apparigliata all'interno da benaria reale rivediamo le immagini finali di questa quinta corsa di agnano con a zampe levate giorge perovic con un finale di precisione numero uno dello schieramento viene a vincere all'esterno dei duellanti guagira guanta e benaria reale difficilmente separabili sul palo bisognerà aspettare il risponso del giudice d'arrivo al quarto posto il corfino grazie a tutti